di che cosa ha bisogno questo paese grucio non è mai stato famoso come umorista politico ma mentre franklin delano roosevelt si preparava alla sua terza campagna elettorale si discuteva molto su chi avrebbe scelto per la vicepresidenza grucio per prendersi gioco di tanti sondaggi d'opinione aggiunse per capriccio il proprio ballon d'essè poi lo fece scoppiare innanzitutto voglio dire che non sono candidato dal conché non ho mai sostenuto la campagna marx vicepresidente campagna che non è arrivata molto lontano è stata lanciata da uno scuro californiano privo di esperienza politica e tra l'altro decisamente alticcio è stato tutto molto spontaneo l'altra sera ero a una noiosissima cena e stavo parlando della situazione mondiale quando un tale arriva e dice proponiamo grucio marx per la vicepresidenza naturalmente ne fui molto colpito ma soltanto di striscio e questo avvenne dopo domandai subito perché mi avessero scelto per un tale onore perché i miei amici mi avrebbero voluto vicepresidente perché di solito far fuglio al mio sostenitore il vicepresidente tiene la bocca chiusa per lei potrebbe essere un'esperienza interessante vedete dunque che la campagna non partiva da buone premesse e va bene così dal momento che come dicevo non sono candidato non mi fraintendete però la mia non è falsa modestia se qualcuno vuol dare inizio a una campagna la vicepresidenza è l'ideale per me anche se lo ammetto potrebbe volermici un po' prima di riuscire a sopportare tutti i giorni i discorsi dei senatori ricordo che circa vent'anni fa un vicepresidente si conquistò la fama annunciando semplicemente che ciò di cui questo paese ha davvero bisogno è un buon sigaro da 5 centesimi questa affermazione è nel mio spirito in realtà ho preso qualche appunto sulle cose che servono al paese politica o non politica eccole qui francamente non credo ci occorre un piano di tipo 30 dollari ogni giovedì il giovedì è una pessima giornata prima di tutto la cameriera è in libertà mio figlio si prende l'auto e lasciamo stare non rivandiamo storie già morte e sepolte la nazione però ha veramente bisogno di una cosa un buon panino al prosciutto parlo del semplice vecchio ormai una rarità panino al prosciutto a uno strato un'istituzione nazionale finché un droghiere con la passione dei miscugli non l'ha rovinato a modi esperimento ieri sono andato in drogheria e ho chiesto un panino al prosciutto prosciutto e? mi ha chiesto il commesso caffè? ho risposto voglio dire preferisce prosciutto e tonno o prosciutto sardine pomodoro o prosciutto pancetta broccoli vuole insalata di cavolfiore o di patate? solo prosciutto supplicai un semplicissimo panino al prosciutto senza nemmeno una fetta di pomodoro o una foglia di lattuga il giovane allibito andò al banco a consultarsi con il padrone che mi lanciò un'occhiata sospettosa finché non scappai è contro questo genere di cose che il paese combatte un'altra nostra esigenza fondamentale è quella di poter portare il tabacco senza bisogno di trascinare una zavorra pesante e ingombrante qualcuno ha suggerito ai sarti di confezionare abiti di tabacco così per caricare la propria pipa preferita basterebbe strappare un lembo di stoffa e pigiarla nel fornello questo è evidentemente illogico perché un abito con i risvolti fumanti sarebbe ben poco pratico dove si appunterebbero il distintivo della campagna elettorale e il fiore all'occhiello io suggerirai di fare soltanto il panciotto di tabacco poiché il panciotto è un indumento di nessuna utilità non è ornamentale e non tiene molto caldo io credo che un bel panciotto di trinciato burley dolce rifinito con tabacco turco sarebbe una gran comodità per l'uomo americano disegnando un simile indumento qualche sarto dotato di spirito di iniziativa potrebbe soddisfare anche un'altra esigenza un paio di calzoni che di notte si nascondono automaticamente in modo che vostra moglie non possa scoprire dove nascondete i soldi far svanire i calzoni può sembrare un'idea un tantino da visionari ma è una pensata con cui sto facendo notevoli progressi sono già riuscito a far sparire la mia camicia semplicemente sedendo a un tavolo da bridge con mia moglie conosco un tale che dichiarò due cuori avendo in mano soltanto tre scartine e gli sparì la moglie naturalmente così il suo problema fu risolto di notte poteva appendere i calzoni fuori all'aperto ma questa non è una soluzione sempre consigliabile perché credo che le mogli abbiano un ruolo ben definito nella casa come madri sono impagabili e anche per tenervi al corrente di quando la vicina compra una nuova auto o una pelliccia o di quando il marito la porta a ballare lasciatele fare e non avrete bisogno di nascondere i calzoni di notte perché non avrete più niente da tenersi nascosto dentro di un'altra cosa poi ha bisogno il paese il vecchio corsetto che si allacciava sulla schiena è semplicemente ridicolo sostenere che i busti di oggi servono allo stesso scopo poiché non è affatto così insomma 35 anni fa il vitino di vespa aveva un significato per l'uomo gli permetteva di fare quotidianamente esercizio stringendo i lacci del corsetto ora con questi busti siamo diventati una nazione di molliccioni mia moglie mi ha appena informato che il vecchio corsetto con l'allacciatura sulla schiena c'è ancora perciò ignorate il paragrafo precedente ripensandoci credo che l'uomo americano faccia troppa ginnastica ha invece bisogno di più pace e riposo abbiamo bisogno di una coppia di buoi in ogni garage oh ecco l'ho detto mi rendo perfettamente conto che qui varrebbe a una rottura politica con l'industria automobilistica e le rotture non piacciono a nessuno ma non sarei degno della vicepresidenza se non avessi il coraggio delle mie azioni come parcheggiare per 40 minuti nelle zone dove il limite è di mezz'ora parcheggiare questo è il problema con i carri tirati dai buoi i nostri bisnonni non avevano nulla di cui preoccuparsi per fare 6 miglia fino al centro cittadino ci voleva un'ora ma il carro si poteva tranquillamente lasciare in sosta di fronte a qualsiasi negozio è vero che noi possiamo percorrere la stessa distanza in 10 minuti ma per trovare parcheggio occorre un'ora il bue offre quindi 10 minuti netti di vantaggio sull'automobile naturalmente mi rendo conto che un bue non fa lo stesso effetto di un modello sportivo del 1940 quello giallo all'ultimo grido e so anche che cercare di comprare fieno da un benzinaio potrebbe presentare qualche inconveniente ma non possiamo trascurare il fatto che 10 minuti risparmiati al giorno fanno 3650 minuti all'anno ovvero 60 ore e 50 minuti e quel tempo adeguatamente utilizzato per esempio da Charlie McCarthy alla radio vale circa 250.000 dollari che non sono fieno ma darebbero da mangiare a parecchi buoi altra necessità del paese è avere lavanderie che vi mandino insieme a ogni camicia una cartina di spilli a parte invece di costringervi a staccare gli spilli uno a uno dal colletto o se non li vedete in tempo dal collo tra il mio lavandaio e me c'è un accordo ogni volta che lui mi punge con uno spillo io lo colpisco con un assegno scoperto le sue grida di angoscia si sentono da Culver City alla mia banca di Beverly Hill occorre poi un aspirapolvere che non vi faccia prendere un accidente romando come un Boeing ogni volta che cercate di schiacciare un breve pisolino di 4 ore nel pomeriggio con notevole spesa e difficoltà sono riuscito a risolvere il problema a casa mia come capirete subito la soluzione è ben lungi dall'essere ideale ho collocato alcune mine intorno alla porta della camera da letto i neutrali ovviamente sono avvisati in questo modo se un aspirapolvere si avvicina nel raggio di 6,5 dalla mia stanza la cameriera avrà un bello scherzetto l'unico svantaggio è che quando il colpo va a segno occorre comprare un aspirapolvere nuovo e naturalmente una nuova cameriera un'altra delle cose di cui il paese ha bisogno un progetto che mi sta particolarmente a cuore è una scuola federale di seduzione con il PGM piano Grucio Marx le ragazze imparerebbero a sospirare come la garbo a sorridere come Mirna Loy a fare il broncio come Ginger Rogers e gli uomini ad assumere un'aria svagata e roteare gli occhi come Chas Boyer io avevo incominciato ad allenarmi a roteare gli occhi a casa ma c'è stato un problema mia moglie mi ha chiesto di smetterla perché spaventavo i bambini così mi sono rassegnato a restare il tipo alla Gary Cooper con gli occhiali spesso sento fare osservazioni sulla mia somiglianza con Gary Cooper ma a mio parere lui è un po' troppo alto e ha troppi capelli in testa tuttavia continuo ad avere la sensazione che lui sia un tipo al Gary Cooper più di quanto lo sia io nel mondo dello spettacolo sento che c'è bisogno di una catena di sale cinematografiche dove non si proiettino film in modo tale che le casalinghe per il prezzo del biglietto possano portarsi a casa piatti e tacchino e non siano costrette a ritardare la cena succede infatti che alcune donne non avendo tempo a sufficienza per restare a guardare due film di seguito vanno al supermercato a comprare stoviglie nuove questo dannezza lo show business attenzione non sto suggerendo di eliminare i film si possono facilmente proiettare nei negozi di vasellame e dai pollivendoli vorrei poi che si istituisse un'agenzia di servizi per dare immediata soddisfazione a chi abbia bisogno di un quarto a bridge non so perché ma i giocatori di bridge hanno la mania di riunirsi in gruppi di tre e nulla al mondo è vano e triste come un trio di giocatori di bridge l'agenzia vi chiamerebbe e voleste un bel insistere che non sapete giocare che detestate il bridge e siate a letto con un febbrone che secondo il vostro medico ha buone probabilità di trasformarsi in polmonite quelli si imbestialiscono e vi accusano di voler rovinare la loro serata e continuano a telefonarvi finché fuori dalla grazia di dio vi mettete le mutande di lana e un cataplasma di senape e li raggiungete al tavolo poi appena avete messo giù la prima carta il vostro compagno sussulta lo avete tradito voleva che scopriste una carta di picche da per scontato che siete un esperto in lettura del pensiero che sta malignamente battendo la fiacca vi assale insinuando che darvi dell'idiota è cui varrebbe a farvi un complimento perché invece di farvi salire la febbre non avete calato un re di picche così firmate un assegno per 12 dollari e 70 e vi trascinate a casa a letto dove trovate il medico sorridente e soddisfatto di sé la sua previsione era esatta vi è venuta la polmonite e questo significa che dovete fare il quarto ancora per almeno tre settimane sempre che l'agenzia venga istituita un'ultima cosa il paese ha bisogno di cappelli che si possano piegare ben bene e riporre nella tasca così non occorrerà ricomprarli dalla quarta robiera in 15 serate ho pagato 3 dollari e 75 due pezzi per sera per farmi restituire una vecchia lobby che avevo pagato soltanto a 2,95 e per cui ora non troverei un merciaio disposto a darmi 30 centesimi sarebbe un cattivo affare e a Washington servono veri uomini d'affari se capite cosa intendo tante andate dal vostro politico di fiducia e chiedete un bel gruccio marx caldo e succulento alla vicepresidenza